Il primo grande risultato con un pizzico di orgoglio è stata quella di riuscire a portare il tema delle difficoltà che oggi ci sono. Vediamo che sono stati registrati 5 milioni e 3 di utenti che hanno cambiato fornitore. Lo hanno fatto per il 50% attraverso un contatto telefonico, per il 25% con il porta a porta e semplicemente il 10% recandosi un negozio. Quindi questo cosa significa? C'è una contradditorietà in quello che è il mondo dell'energia. Perché se da un lato oggi, facendo una statistica anche fra i nostri amici, quasi il 95% di noi cittadini ci riteniamo disturbati dalle telefonate che ogni giorno ci bersagliano, dall'altro lato il 50% di questi utenti si sono dimostrati disponibili, hanno concluso il loro cambio di gestore telefonicamente. Quindi questo cosa significa? Che se riuscissimo a dare una giusta regolamentazione a quello che è il mondo e le attività dei call center sicuramente potremmo offrire veramente un servizio ai consumatori. I consumatori che come persone sono state messe al centro della mia PDL in una triplice funzione. nella funzione, nello status di consumatore, nello status di lavoratore e infine quello dell'imprenditore. Consumatore perché il consumatore oggi deve essere tutelato, deve essere tutelata la privacy dei propri dati, devono essere protette le fasce più deboli che sono poi i bersagli preferiti. Vediamo anche la tutela del lavoratore perché oggi i lavoratori dei call center devono essere tutelati a 360 gradi. E infine la posizione di questi imprenditori coraggiosi che cercano di galleggiare in questo mare di confusione normativa dove è assolutamente necessario fare un po' d'ordine per garantire a un mercato che fattura 2,8 miliardi l'anno con circa 1.400 aziende di call center che attraverso tutto l'indotto sviluppano 6 miliardi di fatturato. Grazie. Grazie. Grazie.